Non può avvenire senza informazione perché qualsiasi partecipazione suppone una consapevolezza perché partecipazione è anche azione, quindi è difficile e come diceva Enaudi bisogna conoscere per poter deliberare. Quindi abbiamo pensato di fare questa serata, abbiamo pensato di sentire entrambi le voci interessate a questa problematica all'interno della stessa serata in modo che i cittadini poi alla fine spero riescono a farsi una propria idea incondizionata e quindi a poter decidere e partecipare verso quello che ritengono più opportuno. Questa problematica è sicuramente una problematica particolare che riguarda due diversi interessi l'interesse della ditta proponente a realizzare questo nuovo pianto e l'interesse del comitato a tutelare determinati diritti preesistenti. Quello che noi come città prestata ci suggeriamo anche di, che dovrebbe venire fuori da questo incontro, è anche un principio generale, cioè partire da un particolare per arrivare a un principio generale. Qui dopo chiederò aiuto anche alla politica, cioè è vero che questi sono degli interessi particolari e privati diciamo tra virgolette che si intersecano, che vanno bilanciati, però occorre qualcuno che bilanciato. Quindi ci vuole un intervento che potrebbe essere o posteriore, come sarà in questo caso, come dovrà essere in questo caso, o anticipato e quindi con una programmazione seria del territorio e quindi invito le forze politiche ma anche i cittadini in un'ottica di urbanistica e progettazione e programmazione del territorio partecipata a pensare a questo tema. Grazie. Stavo con la sede a tutti, ho un po' dei tecnici che ho creato l'altro certo che non è. Allora, il pre-slide per presentare il progetto, si chiedevo di fare una descrizione abbastanza più possibile oggettiva di quello che è l'intervento che andremo a fare. Allora, di fatto ecco, questa è una vista dall'alto di una ricostruzione tridimensionale dove vediamo sostanzialmente quello che è l'area progetto internet, quindi c'è la zona di ingresso che è questa. Praticamente l'attività si compone di tre cicli sostanzialmente. C'è un primo ciclo che è lo stoccaggio del materiale. Il materiale parliamo di rifiuti non pericolosi provenienti sostanzialmente dal ciclo di produzione dell'edilizia, quindi parliamo di macerie, di demolizione, di tutti quegli scarsi dell'edilizia che vengono stoccati in questa zona di stoccaggio che ha una dimensione di circa 900 metri quadrati. L'attività è indivivata come R13, quindi l'attività del recupero. Dopodiché viene l'attività di separazione R12, praticamente toglie da questo materiale che arriva dal quale quelli che sono materiali recuperabili come carta, plastica, legno e altri materiali che vengono stoccati di sotto di queste tettoie dove ci sono dei contenitori, di scarrabili, quindi contenitori che servono appunto per stoccare questo materiale e poi portare questo materiale al recupero. Dopodiché vi è praticamente l'attività, un diodo come R15 che è l'attività di frantumazione attraverso questa macchina che è un frantumatore ed è di bagliatura proprio per creare quello che è il sottoprodotto che poi può essere utilizzato, viene utilizzato in edilizia per attività comuni, sottofondi stradali e di avanti c'è. Quindi sostanzialmente l'attività si compone di questi tre cicli e dopodiché diciamo che avevano fatto come dicevo prima un altro tettoio, sono diciamo sostanzialmente dei volumi che servono a coprire questi materiali e come ricordo gli automezzi c'è poi una zona di lavaggio di mezzi, c'è una zona di acquiesa che serve chiaramente per pesare materiali che è entrata e poi uscita e un piccolo ufficio con dei servizi. L'aria è fondamentalmente incintata, intorno è prevista una pentumazione, dopo di che è funzionale di manovra, cambierà sostanzialmente l'area di manovra. Ecco una vista dimensionale che fa rendere bene conto di quelli che sono sostanzialmente i volumi che vengono realizzati, ci sono tre tettoie che hanno una conformazione della classica tettoia tipo agricolo, quindi che bene si intera con il contesto dal punto di vista paesaggistico e architettonico. L'andamento dell'area è stata divisa in due graduni, c'è una parte più alta e una parte più bassa per assecondare appunto l'andamento del terreno naturale, quindi cercando di contenere i volumi di steve e di riporto. Ecco qui ci sono altre viste, c'è una vista, la vista numero 1 che è una vista fatta sostanzialmente da ovest, che praticamente c'è una ricostruzione della situazione dove vediamo l'area, quindi da una vista d'altezza d'uomo diciamo, dove vediamo l'area e quindi la collina circostante. Questa invece è una vista, la vista 2, è una vista fatta da est, anche qui appunto vediamo come l'area sostanzialmente si integra, la zona si integra a quella che è l'andamento del terreno. La localizzazione è la localizzazione sostanzialmente di Montrata Terci, questa è la strada provinciale, qui c'è una ex gava, quindi è stato scelto appunto una zona in parte diciamo, come dire, già intancata da questa attività, anche perché proprio secondo quello che chiamano condizioni di rischio di individuare queste aree, appunto come quelle possibili aree dove poter fare questo intervento. È una zona a destinazione agricola. Adesso qui ho semplicemente rappresentato alcune fotografie per cercare di far capire, diciamo, cosa si vede dalle zone circostanti rispetto, diciamo, come questa area si presenta dalle zone circostanti. Questa è una foto quella che vedete, fatta da questa zona, quindi alla zona sud-est, dove l'area sostanzialmente è questa qui, quindi diciamo che è ben nascosta dietro queste situazioni. C'è un'altra foto, questa è una foto fatta da sud e quindi, diciamo, come una foto scattata da queste proprietà, da queste case che è da squadroni e da altre case, se non conosco, dove sostanzialmente l'area è nascosta dietro questa collina, all'interno di questa gomma, quindi di fatto questa zona non è visibile. Questa è una foto fatta sempre da quelle situazioni lì, anche in questo caso, vediamo queste abilazioni, forse le riconoscete anche, è nascosta qui dietro qui. Di fatto, diciamo, da questa zona, dalla parte sud, da parte che si è tantonelli e da parte, queste abilazioni l'area non è visibile anche da questa zona. Per quanto riguarda invece la zona d'ingresso, questa è l'area scattata dalla zona d'ingresso, anche qui possiamo vedere che l'area, rispetto a queste colline circostanti, è incassata all'interno di questa gomma, quindi anche qui l'area è nascosta in questo caso, quindi non è visibile. Stesso discorso, ecco, qui si vede l'area sostanzialmente che è questa, e quindi diciamo che queste circostanti, che appunto, ecco, questa è un'altra foto fatta da, allora, questa è una foto fatta da nord, quindi è la zona Semprinia, anche qui l'area, come vedete, è all'interno di questa gomma, quindi è un'area che rispetto a queste zone, anche in questo caso, rimane giusta. Stesso discorso, parla sempre dalla zona Semprinia. Ecco, qui c'è una garellata di foto, invece, che rappresentano quello che si vede dall'area oggetto di intervento. Anche in questo caso, sempre fatta l'altezza d'uomo, chiaramente, quello che si vede da quell'area, come possiamo vedere tutto intorno abbiamo situazioni che sono sostanzialmente equate, quindi diciamo, questo dimostra il fatto che la volontà è stata quella di inserirla in un contesto, diciamo, che urbanisticamente sia il meno impattante possibile, anche dal punto di vista ambientale. Ecco, poi qui vediamo quattro foto, sostanzialmente, dove praticamente cosa si vede? Si vedono le case circostanti che sono tutte in una posizione abbastanza, sostanzialmente, defilata. Ecco, queste sono le uniche abitazioni che stanno in quella zona. e queste sono le due a tutte le case circostanti. Questi sono le due a tutte le case circostanti. Questi sono le due a tutte le case circostanti. Questa è invece quella che si vede nella direzione del mare. Io mi fermo qua, poi ci sono manchi, perché si... Va bene? Eh... Abbiamo subito la parola ancora a chiudare. M manchina di moro è sempre la parola ancora a chiudere, perché si vede nella mani, e poi, come si vede nella mani, Grazie a tutti. 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 Esistono due problemi di tipo vincolistico. Il primo è il piano provinciale di gestione dei rifiuti non prevede in pianto in quest'area. E il secondo, che in realtà è già un parere favorevole ma rimane un piccolo, è un piccolo di tipo paesaggistico, tanto che l'azienda ha presentato le carte per fare l'autorizzazione paesaggistica. E io non vi faccio vedere niente che ho fatto io, queste cose le ha fatte l'azienda. Questo è, dalla valutazione previsione dell'impatto acustico, si vede che ci sono una serie di abitazioni vicine. Le più vicine sono tra 71, no, tra 80 e 190 metri. Così come vediamo questa è la valutazione dell'impatto atmosferico, quindi gli effetti, dico, le polveri che sono state previste. E anche qui vediamo che esistono delle distanze che vanno da 137 a 150-160 metri. Per cui esistono degli edifici che sono vicini a quest'area. Lo sapete perché molti di voi ci abitavano. Allora, andiamo avanti. Il paesaggio, il paesaggio, in realtà, qui non sono d'accordo sulla relazione paesaggistica e con quello attento più sententemente, il paesaggio è un paesaggio di qualità. Allora, a parte il fatto che è vincolato, ma a parte il fatto che esistono degli intrattori tra cui la vecchia cala, tra cui delle linee elettriche, tra cui il fatto che nella visione verso il mare si verrà la cosa che sapete tutti, però di fatto rimane un paesaggio di alta qualità. Rimane un paesaggio di alta qualità perché il 5% del paesaggio è ricoperto da siedi e alberature che è uno dei parametri di qualità, perché nel paesaggio permanono coltivazioni di qualità come i torri detti, che in questa regione fanno parte di quello che si chiama coltivazione di qualità. Allo stesso modo, la relazione dà due parametri. Un parametro sul rumore, che dice che il rumore che raggiunge i recettori acusti, però le case, è al di sotto dei limiti di legge, e così come dice che l'incremento di PM10 è al di sotto dei limiti di legge. Quali sono i problemi? Il problema è che qui c'è una parte lunga di presentazione su cosa dice la legge, ma la possiamo saltare, la teniamo, nel caso ci siano delle domande. Il problema è questo. Prima cosa, l'inquinamento atmosferico. L'inquinamento atmosferico, pur essendo al di sotto dei limiti di legge, la legge italiana dice che vanno usate le migliori tecnologie possibili. Io personalmente ho fatto delle valutazioni di impatto ambientale di impianti mobili come questi, la migliore tecnologia possibile per un impianto mobile è quella che l'azienda usa. Il problema è che questo non sarà un impianto mobile, perché rimarrà lì. Per cui c'è da chiedersi se, pur essendo un impianto mobile, le migliori tecnologie possibili possono essere quelle giuste, ovvero bagnare i bordi. Nel caso gli impianti mobili diventino impianti fissi, bisognerebbe probabilmente pensare a un sito più adeguato, in un'area di nitroca, un'area industriale, e con le abitazioni presenti nel raggio di 200-500 metri. Come dicono quasi tutti i piani provinciali, compreso quello della provincia di Pesaro, che è l'unico che fa riferimento a questo, che parla di edifici lontani o 200-500 metri, a seconda della tipologia di impianti. Per cui io ho fatto vedere prima la categoria dei recettori acustici e atmosferici, abbiamo visto che siamo tutti al di sotto di 200 metri, per cui questa è una dimostrazione di tipo valutativo, che probabilmente l'impianto è troppo vicino alle case, quindi è in una pettiva realizzazione. Allo stesso modo, sulle visioni acustiche, è assolutamente vero che i modelli matematici previsionali fanno vedere che il rumore è al di sotto delle uniti di legge. C'è l'unico problema, che la modellistica all'interno di quella che si chiama topografia complessa, cioè fuori dal piano, in una valle e in una conca, dà tutta una serie di problemi dovuti alla sommatoria dei rumori e delle vibrazioni che danno l'uomo ai quelli che si chiamano partimenti, cioè al fatto che i rumori localmente hanno degli aumenti, degli incrementi e soprattutto nelle varie aperte, come sapete, dai greci che facevano il teatro, esattamente in localizzazione di questo tipo, e provocano un aumento del rumore al di sopra dei siti, mentre un appartimento nelle parti più basse. Per cui sulle visioni acustiche è assolutamente vero che è stata presentata una relazione ben fatta e con una modellistica adeguata, ma quello che non funziona è il fatto che essendo su una morfologia complessa probabilmente i suoi rumori ci saranno degli effetti non previsti. L'ultimo punto è la gestione delle polveri. La gestione delle polveri, qui c'è un po' di legge sulla gestione del magazzinamento e la movimentazione delle polveri, qual'è il problema? Le polveri e i sottili che vengono comunque prodotte da impianti di questo tipo danno luogo a una serie di piccoli problemi. Sono problemi principalmente alla salute, ma sono problemi anche alle culture agricole e vicine. Per cui una localizzazione di questo tipo in mano a destretta continua a ripetere quello che è il mio messaggio, probabilmente non è molto meglio e questo è anche stata una localizzazione vicino alla strada regina in un'area non più di 500 metri di abitazioni. Ho già fatto una valutazione che esistono varie e gli accessi sarebbero più semplici. Prima abbiamo visto anche che l'accesso comune viene a una strada bianca, che potrà essere asfaltato, ma è praticamente una strada bianca. L'abbattimento del polveri non è sufficiente, il polveri dà una serie di piccoli problemi anche per le minopole. L'inquinamento da particolato, da mortalità, anche quando è da particolato, che viene da silicati o da cemento distrutto. L'ultimo problema di cui voglio accennare, perché parte per le sostanze organiche per esistenti, è quello delle malattie professionali, che è un problema riguardo all'azienda, ma nelle valli strette, con possibilità di ricaduta alta sul sito, ci sono dei problemi più alti per i lavoratori, che danno una serie di patologie sul lavoro che non sono indifferenti, perché in un ambiente più alto e con una ventilazione non incanalata sarebbero assolutamente ridotte. Io ho finito. Il problema delle fatte acquistere è un problema di cui non si può parlare, nel senso non che sia rietato, ma le analisi attuali non ci danno abbastanza informazioni su dove sta la falda superficiale, ovvero dove stanno le acque superficiali, e come è fatto il sito, visto che c'è scritto dappertutto, che è una cava di smessa, la deltanto è l'azienda. Concordiamo tutti, le cave di smesse sono dei luoghi dove c'è una concentrazione di acque e una percolazione, quindi l'acqua va più velocemente in falda, che andrebbe indagata per vedere qual è l'attuale stato di rischi per le acque sotterranee e per vedere quali sono i possibili impatti cumulativi tra le attività dell'azienda e il fatto che c'è una cava di smessa, quindi potrebbero esserci dei problemi. Io questo problema l'ho citato perché questo non è un impatto ambientale ma è un rischio ambientale che va analizzato in seguito e che probabilmente la provincia dovrà chiedere, o anche il comune, dovranno chiedere all'interno dell'integrazione dell'azienda. Quindi un'analisi geologica di dettaglio con una valutazione di tutti i rischi sulle acque sotterranee e di tutta la percolazione che attualmente è calcolata nel piazzale ma l'eventuale fuoriuscita di acque dal piazzale in quali siti andrà a incanalarsi e dove andrà a uscelare. che sono due rischi associati sia allo stato attuale che allo stato attuale e allo stato del governo. Io ringrazio ringrazio il signor Fernand ringrazio il signor Fernand questa è una lotta per essere stati abbondantemente intelligenti ora passiamo agli schieramenti politici non vi chiamerò quindi di corazzarsi in primo modo di schieramento buonasera a tutti io sono Tommaso Cavallo consigliere comunale del Partito Democratico Allora uso questo come come allora innanzitutto voglio dire che sono benvenuti dei momenti di confronto come questo quindi ringrazio l'Italia prestata per averlo organizzato anche perché se affrontati nella giusta maniera consentono alle parti politiche ai prenditori e ai cittadini di capire bene di cosa si sta parlando ritengo però necessario fare chiarezza su almeno tre punti che in questi giorni anche mezzo stampa sono stati trattati cioè in particolar modo la localizzazione dell'impianto il discorso relativo alla variante urbanistica e il concetto di pubblico utilità infatti dovete sapere che impianti di questo tipo vengono autorizzati lo si vedeva prima nelle slide dall'articolo o meglio seguendo l'itera autorizzativa previsto dall'articolo 208 del decreto origine 152 del 2006 questo decreto prevede che questi impianti possano essere realizzati in area agricola e al comma 6 cito testualmente dice che l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti parelli autorizzazioni e concessioni di organi regionali provinciali e comuni costituisce o che occorra variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblico utilità urgenza e indifferibilità dei lavori questo che significa che la variante urbanistica che il progetto stesso costituisce e la pubblica utilità non vengono dati dagli enti di carattere provinciale regione valente è lo stesso decreto che definisce tali detto questo noi potremmo parlare penso per ora della volontà o meno del decreto legge in ogni caso credo che questa discussione ci potrebbe poco volontà nel senso che sicuramente questo è il quadro normativo di riferimento nel quale dobbiamo fare anche per fare perciò come dicevano i patini me lo ricorda anche l'avvocato d'una ex set ex che è una delle poche cose che mi ricordo di certo e per questo penso che per quanto riguarda la localizzazione si sono dette molte cose tutti auspicheremmo una possibile localizzazione in area industriale nel senso che sarebbe penso auspicabile da tutte le parti politiche da tutti i cittadini però per far sì che in questo si realizzano si devono contemporaneamente verificare diversi fattori come ad esempio che un privato sia disponibile ad accedere un'area alla vita perché lì mi sia di quest'opera il comune è il proprietario di determinati lotti nella zona artigianale del potenza vicenda lungo la regina però credo anche che questi lotti dovrebbero essere innanzitutto rimodulati per consentire l'espedamento di questa attività della vita e non possono essere assegnati se non per mezzino una procedura di gara quindi non assicurerebbe alla PSP di essere assegnati ad uno di questi lotti oltretutto va fatto anche un discorso che sospetta la vita di opportunità di caratteri imprenditoriali sul tema però sul discorso della variante urbanistica ci tengo a dire che questa variante dal punto di vista tecnico è una variante di tipo retroattivo cioè cosa significa che è legata esclusivamente a questa attività e a questo progetto quindi un domani se ci dovesse essere una dismissione dell'attività dell'impianto vi sarebbe un'ordinanza di impristino dello stato dei luoghi attraverso un attivato piano di recupero e dico anche che per favore la pagina dico anche che questa autorizzazione non consentirebbe alla vita di realizzare altri volumi per altre destinazioni adesso scendendo un po' più nell'aspetto politico della faccenda io credo che qui la politica si trova a dover decidere diciamo tra due parti una parte che è quella imprenditoriale che pretende come lo vuole poter espandere la propria attività attraverso un lavoro dall'altra invece ci sono dei cittadini che legittimamente giustamente chiedono informazioni di merito all'impianto e vogliono che tutto sia fatto si deve essere fatto appunto a regola secondo le norme però penso che per decidere siano necessari degli elementi oggettivi e quale procedimento meglio della valutazione di impatto ambientale può dare alla politica degli elementi oggettivi per decidere eh lo so faccio subito allora il discorso è questo nel senso che la valutazione posso venire signora guardi toghi per venire abito a porto potenza non ci posso per signora scusi il piacere poi c'è il dibattito adesso possiamo dire no qua comunque sia la politica non è richiesto esperanza da una parte quella dell'altra la politica ha chiesto un compito più alto che è quello di decidere la cosa giusta e questa cosa non può essere fatta se non ci sono oggettivi elementi di valutazione trovo anche lo dico sinceramente un errore ma dubitare insomma dubitare di quello che è la validità del procedimento di via anche perché da rappresentanti delle istituzioni soprattutto per quel che riguarda le tappe politiche le istituzioni devono avere rispetto di quelle che sono le istituzioni di valutazione superiore non lo si può dire soltanto valutazione allora prima di passare al secondo scusate prima di dare la parola al prossimo intervento volevo chiedi dibattito Emanuela si trova la ragazza che si trova in fronte da Salmano passerà chi vorrà parlare passerà chi chiede il nome verrà assegnato e poi nel dibattito chiameremo queste persone che avranno due minuti più o meno di fare la domanda e anche tre minuti la risposta da parte di delle persone a cui chiedere la domanda Buonasera a tutti sono Franco Sivigadiesi sono consigliere comunale del Movimento 5 Stelle ringrazio la città prestata per avermi invitato e Massimo per tutti i messaggi che mi ha dato il Movimento 5 Stelle di Terenza mi c'è una posizione un po' più chiara noi siamo contro la localizzazione e la costruzione di questo impianto in località semplice la nostra posizione è stata già espressa in un incontro che abbiamo avuto con la PSD noi vogliamo che questo impianto sia costruito in quella zona di un ci troviamo in fondo a un conflitto di interessi legittimi gli interessi dei cittadini a vivere in una zona che non sia inquinata e gli interessi legittimi di una ditta che vuole che vuole andare su in stessa non si arriverà mai a una conclusione concordata quindi in questo caso o la politica prova a quadra oppure bisognerà arrivare ai tribunali con costi enormi specie per i cittadini e chiediamo chi pagherà tutti questi costi che i cittadini dovranno sostenere i motivi di perplessità sono gli stessi ma io vorrei fare il punto su alcune cose si parla di Cava e vorrei forse tutti siete andati ma non credo questa zona è una conca e il piano verrà costruito nel lato nord-oest che non è interessato dalla Cava la Cava sta esattamente dall'altra parte quindi viene indaccato la zona integra come Querce Ulivedi e qualun altro che sta proprio sotto le case mentre invece la Cava sta da un'altra parte anche se come dice passeranno la prima cosa che mi ha dato passare cioè non essere preciso nella organizzazione delle cose poi noi vorremmo che diciamo aspettiamo che il Consiglio Comunale abbia una posizione politica diciamo contro questa costruzione a difesa dei cittadini che abbia una posizione in cui vengono indicati avversi come la dieta possa costruire questa zona questa zona e noi spingeremo anche perché coerenti a quello che abbiamo detto in campagna elettorale e che hanno detto ogni altri partiti un zoom zero del territorio l'ha detto Fausto l'ha detto Francesco la parola il con zoom quindi io credo che se guardiamo un ritmo di credibilità alla politica dobbiamo essere coerenti tra quello che diciamo e quello che poi facciamo l'incoerenza faccio il medico in psicologia si chiama corruzione militare cioè però non possiamo pretendere che le persone vadano a potare la gente non va più a potare perché non siamo più primi se la politica vuole recuperare un minimo di credibilità evidentemente non si è quello che dice e quello che fa e quindi io faccio una pena a Fausto Cavaglio e anche a un amico Cavaglio se hai letto in campagna l'elettorale con il suo pozzetto e il come si chiama il bucettino che vedete pubblicato un suo pozzetto sì cosa può per fare questo la rete anche per la la politica per farlo per farlo zitto per il favore per farlo mi piaceva la regalmi scusate mi perdoni mi perdoni l'esco e ti vado che sarà un video dopo che poi mi rinnovare il suo video che ci sia un censimento tra tutte le aree degradate in zami perché in zami sono quelli che ci stanno le foglie a cielo roberto oppure a rischio idrongeologico io farò in modo che faremo una mozione una interrogazione quel che Dio vuole affinché affinché ci sia un un censimento di queste aree un'altra cosa che chiederò è che questo che questo consumo di territorio zero venga poi c'è sia effettivo chiedo scusa a Mespini se lo ha zittito poi adesso potrà dire quello grazie e buonasera a tutti buonasera a tutti sono Julio Prociotti da un gruppo di maggioranza ringrazio io città prestata di questa serata mi aggiungo le ringrazioni che ha fatto il consigliere Cavallo credo che questi incontri siano importanti per stabilire anche un clima di confronto magari sono ospitabili un qualche settimana d'anticipo laddove necessario laddove la cittadinanza vuole ho già detto chiaramente passate al sembrale che la nostra amministrazione aperta le porte i comuni sono più fermati aperte per dare spiegazioni per chiarire a qualsiasi cittadino che vogliono approfondire l'argomento siamo e l'abbiamo detto un'amministrazione un consiglio comunale molto trasparente lo vogliamo essere da mezzato a poco e vorremmo che sia così voglio un attimo aggiungere a quello che ha detto Eddie nella prevenzione ci sono due interessi da un lato di SP un interesse prevenitoriale e dal lato un altro interesse è quello dei cittadini Eddie si è scordato di parlare di un terzo polo di un terzo interesse che è quello forte che è quello amministrativo che deve essere tutelata dell'imprenditoria deve essere applicata dell'ambiente ma ha un altro compito fondamentale che è quello della programmazione della progettazione di un territorio il nostro territorio per anni ha subito a mio giudizio delle violenze dal punto di vista programmativo una progettualità non c'è stata non ci sono mai individuate le zone e si è sempre andata avanti con una politica di copertura a tre a quattro anni ora io non entrerò nell'aspetto tecnico perché non appartiene non ho le competenze tecniche credo fortemente le istituzioni e le istituzioni stanno studiando in maniera attenta libera e prive da qualsiasi forma di pressione e tutte le procedure dico libera da qualsiasi forma di pressione la politica non deve esercitare pressioni tecniche sui tecnici che stanno elaborando i loro dati e stanno cercando di elaborare un movimento chiaro e preciso ma è chiaro la politica ha un altro compito quello di amministrare quando i politici vengono chiamati governatori noi non governiamo le persone ci mancherebbe noi governiamo un territorio e come tale per governare un territorio ha bisogno di regole chiare queste regole chiare devono andare in una direzione che possa garantire al territorio tutto un respiro 20, 30, 40 anni di produttualità abbiamo qui di fronte l'autostrada che è 50 55 anni fa i nostri tecnici hanno identificato il percorso autostradale come idone al nostro territorio il risultato è di fronte a tutti già questo è un esempio macroscopico io ho avuto modo con l'amministrazione di confrontarci un'azienda un'azienda molto seria che lavora esercita e insiste nel nostro territorio una credo della bontà del progetto credo che ci sono tutte le norme che possano tutelare l'ambiente e qui vorrei invitare tutti i cittadini a chiarire e a tirarlo fuori tutte le varie perplessità non credo che quella zona sia una zona preposta per far crescere un insediamento produttivo è chiaro che come diceva prima Eddie un buon più bene più generale la libertà è dalla conoscenza è chiaro che il giudizio politico è espresso dopo che tutti i dati vengono acquisiti ma è chiaro che un amministratore deve dare delle direttive forte al proprio territorio deve disegnare il territorio e quando un amministratore altrimenti faccia un micro parente se amministra i comuni sarebbero soltanto i tecnici un ingegnere un architetto un geometra un un ambientolo mi scusi come mi mi dico e non un farmacista un dottore un lavoratore di un commercio che hanno un altro un altro scopo hanno lo scopo di essere delegati ai cittadini e disegnare con delle a volte dalla parte dei cittadini un territorio io credo fortemente nel progetto l'ABSP cercheremo in tutti i modi acquisiti i dati di esprimere serenamente un giudizio ma voglio l'abbiamo già detto quando abbiamo incontrato l'ABSP che vorremmo anche rincontrare così come vogliamo rincontrare i cittadini e il comitato in maniera istituzionale rincontrare l'amministrazione voglio dire chiaramente che da adesso in poi tutte le scelte che prenderemo saranno in funzione di una logica di progettazione Vespini che prima ha detto il territorio anche in una zona industriale verrà consumato è chiaro che consumare il territorio in una zona produttiva artigianale è diverso che consumarlo in una zona dove qualsiasi logica anche non tecnica ci fa capire che non è una zona individuabile per uno stupro futuro del territorio passiamo iniziamo il dibattito ci sono solo tre persone che mi sono segnate quindi ricordo che vorresti intervenire può chiedere Emanuele e poi perché non siamo inutili alle domande prima di iniziare il dibattito mi prego di cerchiamo di tenere i pauri tranquilli quindi senza senza essere troppo animati nel senso che siamo qui per questo è il civile e possiamo capire come funziona la cosa quindi mi prego di inizia la compagnia Roberto allora devo dire che chi ci ha fiducia tanto di queste autorità che fanno dei pareri forse che se ho tutti i pareri mi non potrebbe essere in genere basta che uno può vedere il parere qui che ha fatto la usle la usle in cui addirittura dice visto che attornate nella zona non sono pressanti edifici scrivi alla provincia immaginata il settore ambiente scrivi al responsabile del settore ambiente comunico di potenza vicenda e lascio qua sto parendo qui non ho mai risposto a questo se lo passo a questo che queste le cose non sono esatte o o che un cittadino come me ha preso l'appuntamento perché è in questo parco come l'appuntamento in provincia la provincia ha fatto 15 qual è facile rispondere a quelle cose comunque perché abbiamo parlato delle falche perché l'appuntamento dice che le falche stanno 10 metri qui ci stanno nei casi la ceramica diatica c'era nessun combinamento allora per una zona qui che arriva fino a via Pagadilla che è seguito fino giù in fondo a via da Casperi ci stanno ordinando il sindaco dei corsi sono combinati chi ma dice le conseguenze di chi non ha controllato questa roba lo chiede che non posso tirare fuori l'acqua la cosa ma è almeno combinato allora questo sta attento prima di restituire i paleri ma riposto se sono sbagliati deve essere risposto perché sennò questi passano a una forma per devi avere la provincia e darla attualizzazione questo è il discorso e poi per non parlare di quel simbolo ma facendo qui quante varianti dobbiamo fare da agricola a industriale lo comune nostro è specializzato per fare da industriale a macchia dell'opato andate a vedere voi da scala del g questi hanno potuto trovare una variante lì la zona in piepotenza per fare lo stesso modo ma adesso andiamo a fare un'altra variante lì su una zona in cui la cava deve essere naturalizzata qui da lì e poi perché su sti quadri scrive che qui l'impianto deve essere fatto parzialmente da poco come noi qui dicele non si capisce bene ha letto bene lì il momento 5-7 ma perché scrive che deve essere fatto parla tutti della cava no? qui della cava allora voi dovete rispondere qui perché questi dobbiamo fare due varianti in questo modo qui prima di tutti perché non fare la zona industriale perché li non pagano pochissimo e questo il discorso ma chiudo qui ma l'interesse principale legittimo ce la sono i cittadini a difendersi dalla salute il cittadino è il cittadino è il cittadino è il cittadino è il cittadino grazie grazie signor per maniera è l'appogadio cebola prossimo allora io mi presento il comitato e sono dei carri perché se mette le cose sono nelle cose scorse delle istituzioni la società PSP giusto si tratta di una società di concessionaria di costituzione di servizio lo guardate bene no no si sente il filotto di garantire la società privata quindi allora non capisco l'interesse delle istituzioni di andare a cambiare un territorio fare una variante per un privato cioè stiamo parlando va bene il decreto legge che le ha chiamate c'è diciamo la loro sì sì va benissimo è giusto tutto quello che dice ma è giusto se parliamo di una società di un gestionario di pubblico servizio laddove c'è l'interesse collettivo e laddove il comune o l'istituzione è chiamata a riportare il territorio a riprogettare il territorio la parola la società posta lo stesso metodo di cittadino no lei ha detto che la variante non è necessaria nel momento in cui il 152 del 2006 ci dice che c'è la necessità pubblica c'è l'urgenza c'è la necessità tutte parole di un interesse pubblico se parliamo di un gestionario di pubblico servizio laddove l'interesse pubblico mi posso assicurare guarda laddove l'interesse pubblico prevale prevale sugli interessi privati ma qua stiamo di fronte a un cittadino che è posto su un pari livello della società perché qualcuno si dovrebbe attivare ed andare a fare una variante per tutelare un interesse privato perché è un interesse industriale non è un interesse non è un interesse che non è un interesse che non è un interesse allora è invitato adesso con le istruzioni andate a fare una variante per tutelare un interesse particolare che potreste tutelare solo da un problema di vita comunista nazionale non è un interesse e ho redatto lo studio di impatto ambientale per la vita allora buonasera a tutti sono Andrea Francioni e ho redatto lo studio di impatto ambientale per la vita PSP volevo rispondere all'avvocato che non essendoci nel comune di Potenza Vicena come in molti altri comuni della provincia di Macedata delle aree dedicate alle industrie in salubri e comunque le industrie in salubri sono delle attività che sono sul territorio comunque anche se l'azienda avesse scelto un'area produttiva io faccio solo una valutazione tecnica ci sarebbe voluta la variante la la variante di destinazione per cui non dire che la variante sarà fatta o viene fatta solo ed esclusivamente perché stiamo in area agricola non è assolutamente vero dal punto di vista tecnico anche se stavamo in area industriale dovevamo ugualmente fare una variante di destinazione perché il comune non ha predisposto delle aree come tutti i comuni moltissimi comuni della provincia della macerata destinata ai nostri insali anche se noi avevamo scelto un'area produttiva sempre comunque avremmo dovuto fare una variante urbanistica perché l'area deve essere classificata con destinazione per i nostri insali perché comunque a garanzia a garanzia dei cittadini c'è una procedura particolare che tiene conto appunto degli impatti che questo tipo di materiale che qualsiasi tipo di materiale che viene definito rifiuto deve essere giustito in una maniera particolare per cui la procedura oltre a quella della valutazione dell'impatto ambientale poi successivamente seguirà con un'autorizzazione alla gestione dei rifiuti qui siamo in una fase diciamo superiore ma comunque il cambio di destinazione di russo sarebbe stato comunque da fare anche se eravamo in una zona industriale vorrei aggiungere una cosa in merito alla variante urbanistica sono state le cose improprie l'articolo 208 il procedimento di organizzativo c'è il progetto che costituisce la variante urbanistica non c'è una volontà a monte dell'amministrazione o meno non è necessaria una volontà a monte dell'amministrazione di fare una variante urbanistica è una procedura che prevede la legge uno può anche non piacere la legge non essere d'accordo però questa è una procedura prevista che già il progetto è la giuda della costituzione di varie urbanistiche è chiaro che nell'ambito del procedimento uno dirà il suo parere compreso il comune quindi non è un favore che il comune deve fare anche se forse se non ho capito male devo capire l'avvocato diceva questo allora volevo aggiungere due cose perché secondo me ci sono dei problemi proprio sulla legislazione ambientale che bisogna chiedere quello che ha detto la dita è assolutamente vero intanto cominciamo da questo ma 152 dicono che ogni valutazione di impatto ambientale diventa la riangurbanistica nel caso in cui ci sia bisogno quindi questo che sia chiaro al proprio d'altro lato ci sono due punti a chiedere proprio perché esiste un piano provinciale di gestione dei rifiuti il piano provinciale di gestione dei rifiuti prevede alcune aree dove le aziende che trattano rifiuti possono essersi cosa che quest'area non è credo che l'azienda si dà accordo perché l'ha scritto l'azienda è d'accordo perché l'ha scritto sulla valutazione del corpo ambientale cioè nella nuova finisco che piano chi non prevede questa cosa è vera cioè l'avete scritto voi io l'ho scritto prendendo vari vari lavori d'altro lato volevo aggiungere un'ultima cosa il consumo zero di suono questo anche qui è una questione proprio di normativo urbanistica il suono viene ripetuto consumato in Italia quando è stato destinato a un uso diverso da agricolo o forestale per cui se l'area qui davanti è mare urbana anche se non c'è niente viene considerato il suono consumato così come se questo campo richiede che sia la calcetto è verde pubblico non è suolo consumato ma se il campo da calcetto fa parte dell'edificato viene considerato solo consumato per cui così una nota di urbanistica basica il consumo è solo zero in questo paese ad oggi si intende quello che non ha una destinazione urbanistica che sia urbana commerciale o industriale come è stato un'estruzione vuoi essere onesto a me è vero che nel progetto c'è scritto che il piano di gestione dei rifiuti prevede quest'area come monedonia però la questione non è completa perché il piano di gestione provinciale dei rifiuti è stato fatto è nato diciamo sulla base di un piano di gestione dei rifiuti che era stato iniziato per le discariche dopodiché la provincia ha fatto in carico all'università di Angona di integrare questo piano perché nel frattempo la normativa cambiava e di adattarlo anche a questo tipo di impianti quindi cosa vuol dire vuol dire che è stato prodotto questo piano sostanzialmente se andiamo a guardare la cartografia del piano non è altro che una trasposizione dei vincoli tra cui il vincolo paese cistico essendo quest'area ricadente all'interno del vincolo paese cistico come la gran parte del comune di potenza e del territorio come la parola in Sabicena il piano indica come questo elemento un elemento stativo ma non è un elemento vincolante per questo tipo di impianti mentre lo è per le discariche quindi qualora il piano di gestione dei rifiuti prevede un'area non idonea lo è per le discariche e non lo è per questo tipo di impianti tanto è che per questo tipo di impianti è stata fatta una relazione di sito specifico con un parere della subintendente che quindi consente di superare il vincolo paese cistico e di conseguenza rende questa area tra le aree di loro questa è la norma è la procedura poi ripeto con un pece passiamo alla prossima domanda il signor Pasquale buonasera buonasera comunque io adesso non vi voglio segnare troppo diciamo perché si non vi voglio segnare troppo però non vi voglio neanche dire per esempio che nella valutazione del parco ambientale si dice che non ci saranno problemi per il traffico perché l'accesso è facile però l'accesso in burgo io vorrei che c'è una camion che è rilevante portata che stanno in burba non voglio neanche dire diciamo le strade sterrate che stanno sotto perché io penso che stasera ho sentito tante cose diciamo anche alcune anche piuttosto bizzarre perché probabilmente bisogna ritornare ma andarla per esempio per capire diciamo esattamente come è fatto di che parliamo onestamente devo dire che dalle foto che ho visto stasera probabilmente stamattina con l'amico Benito Ciccarini si può andare a vedere un'altra cosa perché io non l'ho proprio riconosciuto non voglio neanche sottolineare che per quanto riguarda l'uso dell'acqua ad esempio che si ripirà per l'impianto le osservazioni che sono state fatte per ritenere che probabilmente ci saranno soltanto acque piovane quello che ho capito per l'impianto se questo diciamo è una considerazione risolutiva perché magari se ci abbiamo un impianto un periodo di secca come in un periodo che è capitato dovremmo utilizzare l'appodotto pubblico l'appodotto pubblico per quello che sto io corrigendo il risultato però non è che sia proprio brillantissimo quindi è provabile che un allaccio interiore in presenza di un enorme modifica di tutta la struttura possa calcolare i miei residenti lo scuolo nel posto diciamo che viene citato con una certa tranquillità a me non è passato tranquillo per niente perché non ho dissimamente presente dove va a finire questo posto questa cosa diciamo mi piace manca curarla scusate un attimo mi scusate la cava viene citata davvero molto spesso a sproposito perché in effetti più la cava non c'era niente l'unico utilizzo che farete più la cava che non sarebbe la chiusura la bonifica della cava però non nel modo che stanno facendo adesso trasportandoci R eccetera credo che probabilmente ci servirebbe un progetto qualcosa che si stabilisca la naturalizzazione diceva la cava non vorrei neanche ricornarsi sul tema del piccolo paesaggistico il piano la gestione di fiori eccetera perché mi pare che le spiegazioni sono state piadissime io aggiungo soltanto anche un'altra cosa un'altra pizzeria leggo nel progetto per la valutazione di fatti ambientali che l'impatto su IA di sistemi sarebbe nullo diciamo perché c'è scritto che non sono presenti sistemi di rilevanti interesse sconti signora mi faccio sconti sistemi di rilevanti interesse però da caso questa mattina ci ho trovato che non sono un appassionato ornidologo però ho capito che lì ho saputo che c'era un uccello che si chiama gruccione questa è una pacezza diciamo il gruccione per chi non lo sapesse è una specie protetta dalla convenzione di Verna il che significa che devono essere protetti a visite di nidificazione come in questo che dite secondo me Giulio Caciotti ha detto una cosa che è sacrosatta questo comune ha vissuto in tanti anni episodi moltiplici di scelto delle nostre colline che questo quando non è in monocena questo è proprio scuro perché chi lo va a vedere quel posto se ci fosse venuto con me stamattina in una giornata splendida avrebbe capito che è una cosa assolutamente pazzesca anche solo averlo immaginato grazie grazie se io volevo fare una domanda a Dottor Gallo volevo chiedere stas io ho anticipato è facile rispondersi quando hai interesse di volta rispondi alla signora se ti vuoi farmi male no no non lo fai la signora non lo fai ma lo attacchiamo è vero o non è vero che voi avevate già parlato di questo processo prima della campagna elettorale perché lei non ha detto un giorno il risultato del giornale lei mi ha detto noi ne abbiamo già parlato durante la campagna elettorale quando noi cittadini non sapevamo nulla della cosa eravamo venuti in comune io e mio marito a chiedere informazioni già da di sempre e abbiamo continuato a tenere le sue protezioni e voi avete sempre negato di conoscere il progetto non lei mi ha fatto il peso ma in generale voi diciamo è vero o non è vero che voi non avevate già parlato tra di voi mentre vi va nella bocca di l'impatto che è tutelare il territorio con il suo museo siete venuti a dire una piazza bucarina durante i corsi di l'arte direi no no se voi non conoscerate io ho sentito che c'era una cosa di un'altra no no voi ne avevate parlando rispondo giusto per essere precisi nel senso che nel torno del consiglio comunale si ricorda è venuta da me e lei mi aveva detto sa che c'è in alto questa cosa eccetera io non ho detto ne abbiamo visto io ho detto che negli uffici avevo come posso dire avevo visto che c'erano un corso non è questo che ho detto perché io Guardi la parola... è la parola mia nel senso che se gli effettivo qualche parola non mette il problema allora... Allora, la questione è questa. Io, come ho detto, avevo visto che all'interno dell'ufficio erano state fatte le richieste. Non ne avevamo discusso in campagna elettorale all'interno del partito. Ci sono altri iscritti che possono confermare. Per quanto riguarda il discorso relativo al capo gruppo, signora Ministriate, probabilmente ho detto che ne avrei discusso col capo gruppo. Comunque vorrei fare una piccola politizzazione, nel senso che io non ho detto sono favorevole o sono contrario a Libia. Io ho detto che la politica per fare una scelta seria è acquistare degli elementi oggettivi, d'accordo? E gli elementi oggettivi e le istituzioni che acquistano per metto le priorità delle istituzioni. Allora, per poter dire, signor Rocanella, signor Rocanella, signor Rocanella, mi scusi, mi vorrei ricordare questa è una scelta seria. Scusate, è un piacere, vorrei solo ricordare che questa è la scelta pubblica, inoltre è organizzata e c'è la prestata. Io, nel moderatore, poi per l'intervento sulla scala, posso anche interrompere questa scala. Se lo diamo questi toni, la ci batti dovrà interrompere questa scala. Scusate, la serenità si è approcciata, mi sembra che sono inoltre. Ho capito? Cioè, non è pari che le parti politiche, al di là del movimento di questa scala, sono spesso tutte alla stessa posizione. Passiamo per l'intervento, con un genetico. Allora, buonasera a tutti. Penso che ci sono state interessate per vedere la testa di organizzato e le mie domande sono state già risposte di riparare da Salvatore Ciondo, da Aleppo Sprocato e da Pasquale, Sergio Pasquale. L'unico dubbio che mi rimane è che abbiamo sentito parlare di una ex cava dismessa. Però, quando abbiamo sentito, una cava non è disincerata nel piano, non è disincerata una cava. Quindi questa cava qua, è una cava così, ma cos'è? Allora, cosa è stata una cava? È stato effettuato l'automifica? Sono state fatte per scattare le cose tutte? Le avrebbero essere fatte oppure è una cava così? Tra le altre cose che vogliamo aspettare, con la situazione, con l'organizzazione di Manzul, della vicinanza di Tantano, ci offriremo a dare un nuovo supporto. Allora, io rispondo molto velocemente. Intanto la cava è una cava che non riguarda questo procedimento, nel senso che sono due carri distinte. Quindi la cava è molto vicina all'area in cui... Quindi volevo dire che al punto di sono due carri distinte, non c'entra niente questo procedimento con quello della cava. Per quello che io so, i pareri che facciamo qui. Noi proponiamo i pareri di pagina. Sì, assolutamente! Sì, assolutamente! Sì, assolutamente! Sì, assolutamente! Sì, assolutamente! Quindi, per quello che posso dire sulla cava, esistono delle progettazioni per, diciamo, naturalizzare quella cava. Progettazioni che io personalmente non conosco, non ne sono occupate. Quindi ci sono dei progetti, progetti depositati in comune, non so dove, quindi c'è già un procedimento per naturalizzare quella cava. Per quanto riguarda la risposta dei pareti, noi, ovviamente, risponderemo ai pareti, perché dovremo argomentare, diciamo, a tutte quelle progettazioni che la provincia ci ha posto. Quindi, in maniera del tutto transparente, il nostro interesse è approfondire la questione. Quindi lo faremo, non è che... ... ... ... ... ... ... ... Posso aggiungere due cose. Allora, la prima cosa è il fatto che ci fosse una cava sta scritto appuntamente nello suo impatto ambientale. Ma per cui, cioè, è evidente che l'azienda, in qualche modo, ne ha conoscenza, pur non essendo nel piano cave, né essendo nel piano delle cave qualificate. Io vorrei aggiungere un'altra cosa, rispetto a un'ottocento ambientale di cui, purtroppo, cioè i capelli di anzio, e mi occhio da vent'anni. Io faccio parte della prima classe di inaugurare la presidenza ambientale in Italia, sono anche stato il primo presidente, per dirgli che sono vecchio, ed ero già più vecchio all'epoca. La valutazione imparamentale mette tre punti, in modo chiaro, sopra il tavolo. Il primo punto, dato alla conversione di ARUS, è la trasparenza delle pratiche amministrative in campo ambientale. e qui rispondo anche al dibattito che c'è stato prima, le amministrazioni hanno il dovere di informare i cittadini, i cittadini possono chiedere quando vogliono. Quindi esiste una legge, esiste una direttiva europea, una legge italiana sulla trasparenza. La seconda cosa è, la valutazione imparamentale è vero che tiene conto di tutti i pareri, ma è altrettanto vero che tiene conto di tutte le osservazioni dei cittadini, ed è altrettanto vero che nei paesi dove la valutazione imparamentale funziona un pochino meglio da noi, la commissione via non è una commissione rimente, non è una commissione delle aziende, non è una commissione dei cittadini, quindi è una commissione terza, come nelle pratiche di qualità, è una commissione terza che viene in qualche paese, che viene in qualche paese definita, cioè le associazioni ambientaliste dicono che nella commissione via ci metto Pico, i comuni dicono ci metto Pluto, l'amministrazione provinciale e regionale ci metto Babberino, l'agenzia regionale per l'ambiente, che negli altri paesi non dipende dalla regione ma dallo Stato, ci mette Zotepico, ed è una commissione via che giudica tutti i pareri a cui ha senso fare scoprire le aziende. Siccome da noi non è così, e è un problema anche perché all'interno della 752, ma di tutta la legislazione precedente, perché la legge sulla via è del 1986, sì, questo però è un punto chiaro e non è chiaro come si fa questa cosa. Alcuni comuni in Italia, questo lo suggerisco, qui che finiscono, al comune di Potenza Vicente suggerisco di farlo, insieme al 1.400 comuni di Luganfrofi, esiste una commissione di valutazione dove c'è la valutazione fatta ambientale e la valutazione degli fatti paesagistici ed è nominata l'accordo tra il comune e altre istituzioni comprese le associazioni. Questo è un suggerimento che do al comune che serve anche per acquisire pareri più o meno gratuitamente perché io faccio parte di una commissione via in un altro paese e mi davano 200 euro l'anno, quindi non è una cosa costosa, ma significa acquisire pareri esperti da esperti terzi rispetto a tutte le pratiche autorizzative. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. cioè nel senso non è che mi plastica, però so che devo fare un certo livello progettuale, non voglio dire che la provincia è stata brava perché ovviamente io sono sul versante opposto della provincia, però nelle integrazioni che ci ha mandato inizio settimana non ci sono soltanto le richieste da parte della provincia di chiarimenti specifici fatti da loro, ma sono legate anche a tutte le richieste da parte dei cittadini e noi dovremmo rispondere in maniera puntuale anche a tutte le richieste che ci sono state fatte dai cittadini e che sono state trasmesse alla provincia. Allora, io sono un vecchio amministratista, l'ultima cosa che abbiamo fatto l'ho regalata avanti ieri alla signora Mazzarella, la nostra manifestazione negli anni Ottanta con più grada eravamo 5 gatti e però avevamo sostanzialmente ragione, anche nell'epoca visto i risultati del convegno di città prestata. Noi ci siamo occupati di come ci fa trovare questo problema e appena ci siamo occupati di questo problema, ci hanno lasciato di allargisti, nessuno sapeva niente e era una cosa per a te che è lavori, poi piano piano andiamo a scoprire che qualcuno sapeva, altri in mezzo sapevano, qualcuno forse era capito male, ma sostanzialmente questa cosa era nell'area, nel settore politico, ci hanno avuto uno stato di lavori molto avanzato, tanto avanzato che i ricorrenti, i cittadini della zona, hanno potuto fare delle controdiduzioni alla fondazione del marco ambientale il giorno prima che scadesse. Noi ci auguriamo, noi come Città Futura non siamo d'accordo con questo impianto, niente contro la PSP, ma non siamo assolutamente d'accordo, siamo favorevoli al riciclo dei materiali, a questo riciclo dei materiali, tutti fa fatto delle serie passagisticamente, culturalmente, ambientalmente destinate a ciò. Quindi non c'è niente di personale, anzi, l'iniziativa di questi imprenditori di regina è un'iniziativa che gli ambientalisti verdi auspicano che sia sempre più diffusa, perché in questa direzione dobbiamo andare. Auspicchiamo che questa sia l'ultima riunione di questo tipo. Questa deve essere bene, invece, la dobbiamo tutti, questa è l'ultima riunione di questo tipo, perché i cittadini non possono essere chiamati apposteriori, la politica quando si riduce a questo è già perso. Quindi vuol dire che poi non andiamo in questa situazione. I cittadini vanno scontati dando gli degli strumenti precisi, i comitati di quartiere, i comitati di frazione, vengono istituzionalizzati, vengono eletti per cittadini e vengono ascoltati periodicamente su questioni importanti, ma preventivamente. Quindi, la politica che sapeva o non sapeva, poteva benissimo fare questo tipo di cittadini a tre mesi fa, quattro mesi fa, cinque mesi fa, un anno fa, certo che c'erano i cittadini, chi lo sapeva la poteva fare, chi non lo sapeva purtroppo stava in funzione e girato. Poi, perché chi è ministra ha il dovere di, su queste questioni ha risolto, non sulla lampadina del sottopassaggio, ma su queste questioni ha l'onere di essere informato. quindi, la pubblicità, la pubblicità di che? Questa è un'impresa privata che fa un servizio come lo fa a tanti altri cittadini che hanno delle imprese importanti, diffuse, con una platea di clienti molto vasta, e non c'è questo tipo, sarebbe stato, forse, a maggior supporto se questa società, forse stata la società ministra, partecipata, avrebbe avuto qualche spessore, diciamo, di giustificativo più forte, però così non è. Quindi, niente di personale, ma questo è un piano, quello lì, non può esserci. La cava, la cava, è abusiva, o non è abusiva, va ricombata e ti amministra domani, e poi faremo un'idea specifica, sì, ma è proprio questa notte stessa, ha il dovere di verificare chi l'ha fatta, come l'ha fatta, come è gestita, chi sversa, cosa c'è sotto e cosa c'è sopra. Buonasera, buonasera, buonasera. Io ho avventuto la necessità, anche nella precedente assemblea, tenuta sul posto, con pochi partecipanti, in mezzo rispetto a questa sera, però anche quella sera è messa la necessità della trasparenza. Allora, io guardo a questo, a questo che dicevo, questa è una proposta ben regista. Guardate, questi procedimenti, i procedimenti, quando sono in parte ambientale, sono ben disciplinati dalla legge, prevedono la comunicazione dell'avvio del procedimento da parte del soggetto che è titolare del procedimento, in questo caso la provincia, prevede la comunicazione all'amministrazione proponale e da tutti i soggetti interessati, la ditta, tutti coloro che sono chiamati a dare un paretto. Arriva in comune, chi la riceve? La riceve il funzionario, la riceve il simbato, che gli passa sotto mano sicuramente, con cui la vostra potrebbe leggere, segretario. Però, chi cittadini che magari sono interessati a parte delle osservazioni, non lo sanno. Perché magari viene pubblicata dal laboratorio, e giustamente uno non è che ogni giorno può andare. Allora, io propongo una cosa molto semplice. Provongo, faccio, faccio questa proposta. Un impegno, un impegno politico, un impegno politico, a far sì che ogni volta che arriva un avvio, una comunicazione di avvio del procedimento, che comporta o lo screening per la via, o la via stessa, quindi si presuppone che c'è un impatto ambientale, si prenda l'impegno politico di fare un'assistente pubblica possibilmente nella zona interessata della via. Noi con questo, un impegno politico, che possiamo condividere, a poter scoprire un impegno politico. e il impegno segno per piacere. Vado a cercare di fare un impegno politico. Questa proposta mi sembra abbastanza chiara, ma ancora non ha una esigenza decimale. Il discorso del consumo di azione del territorio, signor Chiesi, io mi scuso per l'interrotto, però non si può invocare questo principio per dire no all'utilizzo di questa porzione del territorio e poi contemporaneamente dire andiamo in zona produttiva, ovviamente ampliando la zona produttiva, per cui noi commentiamo che il principio, del principio è possibile? No, è possibile parlare senza il fotocomio? è possibile parlare senza il fotocomio? non può essere inteso in questa maniera così semplicistica, che è un rettore interrotto. Comunque, io faccio rilevare una cosa, che nel nostro territorio provinciale, ma in giro per titanica, questi impianti sono nella stragrande maggioranza in zone più o meno vicine. Gli impianti in zona agricola ce ne sono buon visi, più o meno vicine all'ambientazione. Qui ci sono degli interessi contraposti. C'è una procedura, che è la valutazione di impatto ambientale, che in questo caso, i tecnici della ditta, i tecnici del comitato, ci sono tutti i soggetti. Qual è la procedura? Se si dovesse concludere con un esito positivo, vuol dire che c'è la certificazione di questo organismo che quello impianto è combattibile con l'ambiente. Scusate, scusi, 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 bocca nera, abbiamo un po' di ruota, kyno, scusi, scusi, scusi. Scusate. Caracol, ănžiu, buca accessory family. Io ve lo dico chiaramente, io avverto, avverto un clima di esagerazione, di esasperazione, è un clima esagerato. Guardate, io vi dico una cosa, a Porto dei Manali questo impianto identico sta a confine con un campeggio. E' un clima di esagerazione, di esagerare il clima, è un clima di esagerare il clima, è un clima di esagerare il clima. Signor Bocareda, le voglio riferirci. Signor Bocareda. Bene. Questa domanda mi è stata fatta più volte, non solo nei giorni, ma nello stesso giorno. C'è un procedimento via, come ha specificato il consigliere Vestini, questo procedimento via ha due fasi che non sono parallele, prima se ne conclude una, poi si riapre la seconda fase. In questa prima fase, quando è stata provocata la conferenza di servizi, dove ogni organo competente ha espresso il giudizio, il comune non si è espresso e che eravamo noi, ma non voglio fare polemica, voglio solo fare la storia, quindi l'amministrazione non si è espressa. Quindi il procedimento via è andato avanti. Le uniche osservazioni che sono state fatte, sono state fatte da parte dei cittadini. Nel momento in cui arrivano le osservazioni in provincia, il titolare del progetto proposto, della via, ha la possibilità di rispondere in 45 giorni, da quando viene comunicato dalla provincia. E non è che la provincia può chiudere il procedimento prima dei 45 giorni, perché fa portare il progettista a rispondere a queste osservazioni. Conclusa questa prima parte, dove il parere via può essere positivo, favorevole, perché tutti i piogliari competenti si sono espressi, c'è la seconda fase. In questa seconda fase, l'amministrazione ha la facoltà di esprimersi, perché viene riconvocata ancora alla conferenza dei servizi, dove ogni organo di nuovo deve dare un parere, non sull'impatto ambientale, sul progetto, sulle caratteristiche del progetto. Va bene? In questo caso l'amministrazione darà un parere. E come diceva prima il dottor Caciotti, la precisa volontà di questa amministrazione è quella di avere una programmazione del territorio. Le dirò di più che si chiede le esprime, che sarà inutile chiamare i cittadini per un progetto. Quando noi invece abbiamo in mente di fare una programmazione specifica, non dare talse illusioni dicendo «sì, sì, provaci, provaci, vai avanti, vai avanti» per cercare di un'altra scuola. Allora, a monte, i cittadini verranno chiamati per decidere, verificare, vedere come intravenire nel territorio. Ovviamente noi diamo delle linee che verranno proposte. Su questo possiamo dire il dibattito. Di modo che ogni progetto non sarà più casuale, ma farà parte di una programmazione, che non è da qui a quattro anni, sarà da qui ad una volontà molto più ampia, per avere un'ottica globale del territorio. E nel rispetto dei cittadini. Ovviamente nel rispetto dei cittadini, perché d'altra parte noi non siamo altro che i vostri rappresentanti. Grazie. Noi ci sono altri interventi in scarica, quindi se c'è qualche altro intervento, sennò lascio la parola ai loro domani a dire per la rifiutura. Ok, grazie a te. Ma scusate, ma... Scusate. Allora, io sono Massimo Gattari, sono il presidente di questo comitato per la tutela della salute dell'ambiente di Potenza e Lucena. Siamo appena nati proprio in virtù di questo stimolo che c'è di loro. Dall'opportunità, appunto, che c'è l'autore di Italia di servire. Io non vorrei ripetere tutto quello che è già stato detto. Ci sono le, ci sono le procedimenti via, ci sono tutte queste cose qui. Io quando sono andato e voglio segnalare erano altre cose. Quello che noi aspettiamo è una politica di lungimiranza, una politica di visione, una politica che ti ha appunto un progetto programmatico per lo sviluppo del nostro territorio senza continuare a fare le scelte di oggi. La seconda cosa che volevo richiamare un faccio politico è il rispetto. Noi ci siamo sentiti oltraggiati dai cittadini. Noi non siamo riusciti ad avere nessuna informazione. Noi da dicembre cercavamo informazioni in comune pensando, una semplice, cittadina o che l'amministrazione, i politici, che potessero aiutare a avere delle informazioni. Non volevamo aiutare, volevamo solo dicembre a avere delle informazioni. Abbiamo chiesto se per cortesia si fossero attivate delle pratiche in tale direzione e fossimo avvertiti. Possimo avvertiti. No, lei deve stare dietro. Lei non è... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Per il piacere, per il piacere, per il piacere. Il mio boccanera. Il mio boccanera. Consigliere Scrivi, quando era il suo turno ha parlato. Consigliere Scrivi, come dicevi? Senti. 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 Consigliere Scrivi. Senti. Basti, basta, basta. Basti. Scusate, io volevo ringraziarti da un po' un anno, innanzitutto, tutte le persone che hanno partecipato, perché secondo il mio punto di vista non sono... E' solo finito! E' solo finito! Sotto a trato con gli amministratori, non dico che non devo dire che non è... Io non ho nessuna responsabilità. Ma lei non è l'amministratore di potenza di centra, è proprio... Lui è il burattinaio e basta! Mentre è il burattinaio, no, no, grazie a tutti. Allora, la domanda di liberna è che sono la passata, perché non ci sono pure condizioni che li facciamo. Quello che noi chiediamo è una cosa molto seria, noi non facciamo politica, noi non facciamo militare, Noi siamo dei cittadini che lavoriamo tutta parte la settimana, solo che pensiamo che ci siano delle amministrazioni che ci possano supportare. Noi credo che chiediamo che sia una politica di lucidecanza, una politica per rispetto dei cittadini, una politica per rispetto della persona. Quando voi pensate a delle persone che si affidano, voi dovete pensare che non è solamente un problema di distanza dal miliardo, ma dietro a quella casa c'è un'intera caonia che ha lavorato magari da generazioni per poterla creare. E dentro quella casa ci sono anche delle persone che hanno delle emozioni, che hanno vissuto lì, ci sono dei figli che hanno costruito e vedono il loro futuro in questa casa. E il futuro non lo possono vedere semplicemente con un impianto del genere di fronte a una habitazione per il resto della loro vita, ok? L'ultima cosa che volevo sottolineare è il principio dell'uguaglianza. Tutte le forze politiche si sono trovate coese per la difesa, giustamente, contro le centrali biomassa. Quindi i cittadini che venivano esposti alle centrali per le biomassa sono stati tutelati. Non vedo perché tutte queste famiglie che vivono e dovranno vivere per il resto della loro vita intorno a questo impianto non devono essere tutelati. Io vi ringrazio a tutti. E l'attenzione vi ringrazio la città di questa... Mi chiamo Giovanni. Lo dico il cognome perché altrimenti sono uscite subito dei tifosi di opposte, quindi è un po' repito. Però chi mi conosce sa in che modo voglio purvi nei loro confronti. Mi dispiace, diciamo, essere entrato in uno stadio dove stanno giocando i nostri figli e i nostri genitori. Li aiziamo uno contro l'altro. Sto tenendo quindi da parte degli organi proposti, degli organi tecnici, burocratici, politici, che non hanno ancora forse la risoluzione specifica di un problema che tocca, diciamo, le persone che conoscono la bandera bambino. C'ho una relazione di amicizi sia con quelli da una parte che con l'altra parte. Mi dispiace, dovete vedere questa partita brutta al parma di calci e di giochi scoletti. Venendo al punto della questione, io cerco, diciamo, semplicemente di dare un contributo molto pagato, rasserenato, deve essere da rasserenare i vostri animi, cercando di dare un contributo conoscitivo su quello che è la problema. Io ho iniziato a leggere su un giornale, il resto del cammino, discarica, si apre, incontrerà la terza. Molto sorpreso. Qui fuori conoscono da me questo posto, qualche dottostrasta discarica, vogliono aprire, incontrerà la terza. Passano i giorni, le settimane, e non piano di giocare dei commenti, sento al bar, perché prego del bar, dove tante volte ci incontriamo con Stefano, con l'ascisio e con la PSP. Quindi conosco bene tutti gli animi, tutte le persone che sono coinvolte, e mi dispiace veramente di questa conflittualità esasperata da altri soggetti, personaggi che stanno all'esterno, e non so che gioco stanno giocando. Quindi, io, diciamo, capisco benissimo. Io sono un appassionato che mi conosce di ambiente, cerco di difendere, lo sento ripeso. Ho le mie politiche, però ho una mia onestà intellettuale che pongo di fronte a ogni confronto che faccio con il prossimo. perché il prossimo non è quello che mi arrastrino, ma quello che qui devo condividere, che devo scegliere dei compromessi per una pacifica convivenza e per pensare ad andare avanti. Perché in questo paese ci sta mancando molto lavoro. Chi si invegna per creare uno viene spesso poi contatto con delle fondamentazioni che non perdisco più neanche io che ragioniamo. La salute al primo posto ci temo oppure io. Lo sai, mi sono mutato per caso con la signora Manzarella. La conosco io, lei non mi conosce. Abbiamo stocchiato cinque minuti, diciamo, delle opinioni anche in merito a questo argomento. Bisogna essere chiari nelle, come si dice, nelle parole, nell'uso delle parole nel significato delle parole si usano. Quindi qui vedo già un ottimo passo avanti, non si parla più di scarica, ma si parla appunto di impianto, di riutilizzo del ciclo di materiali inerti, dove per materiali inerti si intende un materiale che tu vuoi e che lì rimane lì. Non, non, lasciate riferirsi, non mi lasciate riferirsi, io conosco bene a Stefano e a Tarciso. Loro sanno che se io dico questo non è perché io sto cercando, diciamo, di caricare la vostra opinione verso una soluzione o un'altra. Cerco di dare un contributo. Poi voi restate con le vostre, farete le vostre funzioni, resterete tutti con le vostre opinioni. Cerco di dare un contributo per prendere il corpositamento. Perché quando si parla di feriposità o si vuole parlare di polperi sottili, di inquinamento di pante, di tumori, eccetera, qui stiamo parlando di materiali inerti. L'asfalto, le nostre strade, le nostre strade dove noi tutti i giorni camminiamo sono fatte di asfalto. Quindi non sono questi, non so, ascolti, no? Se io vi dico questo, sono un chimico io. Sono un chimico. Ho esperienze di trigonosità delle sostanze chimiche. Allora, noi cerchiamo di non commentare, però, vuoi dire, le persone semplici. Io voglio cercare di dirlo oggi, le persone semplici che c'è un vicino, che vivono vicino. No, ma scusi, eh. Mi permette, la cosa di tutti. Sì. No, ma scusa. No, ma io voglio semplicemente dire che capisco il fastidio di un attimitare di questo genere, a chi viene vicino, a chi viene vicino a casa. La capisco bellissima. E giustamente, giustamente tu ti dici, infatti non è vicino a casa tu. Anzi, anzi. Però non pensare che ci siano pericoli per la salute, perché ci sono dei limiti alti, ci sono dei limiti, ok? Allora, signore. Allora, ci andiamo verso la confusione. Lasciamo la parola. Mi dispiace che alla fine abbiamo un po' scaleggiato, però è comprensibilissimo l'attenzione e anche l'armia, anche l'armia. Se vuoi, anche l'armia. Anzi. 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 Se mi fai il frustration Grazie. Volevo dire semplicemente che alla fine qualche parola buona è venuta fuori, nel senso che io comprendo le preoccupazioni del comitato. Noi non ci siamo espressi né per una parte né per un'altra proprio perché volevamo che questa serata fosse il più universale possibile per poter permettere a chi non conosceva la questione di farsi un'idea. Io penso che in grosso modo ci siamo riusciti e ripeto, capisco le preoccupazioni perché giustamente un narciso, perché come siamo chiamati tutti per nome, diceva, continuiamo a dire al massimo perché siamo riusciti tutti insieme, diceva, se la fai sotto casa tua. Esatto, è proprio per questo che città per strada, ma tutte le altre associazioni di potenza vicina, approfitto che c'è qui, basta. Non c'è postato, 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 non c'è postato. Ok, per piacere, per piacere, poi era un altro concetto, poi io volevo finire con un concetto generale. Volevo dire, volevo dire semplicemente che la politica, io è un appello che faccio, ma la politica la facciamo anche noi delle associazioni, dicevo, c'è Bams, stiamo tentando di fare un coordinamento delle associazioni, prima a me lei ha un regime, se non so se c'era più, ha detto dei comandati di quartiere, è un appello che noi facciamo. Se non c'è la trasparenza, ecco quello che succede, se non c'è la programmazione, ecco quello che succede. Io non è che mi ero scordato, era che volevo sentirlo dire a voi, da voi politici, perché almeno da quando ci stiamo noi, capisco anche la rabbia d'Alberto, che le osservazioni sull'ex geramica, lui ne ha fatte 13, noi ne abbiamo fatte 2, ma ce la facciamo in uguale a tutti e due e poi ce l'avamo ragione di tutti e due. Quindi io vedo un qualcosa di positivo, questa sera lo vedo, però chiedo ai cittadini di non tirarsi indietro e di lottare sempre e comunque, noi la nostra struttura è piccola, il nostro piccolo offriamo il nostro aiuto e chiedo alla politica veramente programmata, andiamo verso una struttura dell'abitare il luogo, abitare vuol dire custodire il luogo, vuol dire sapere avere uno sviluppo armonico del luogo. Questa valutazione che adesso si fa ex post, poter essere fatta benissimo ex ante e evitava determinanti problemi. Grazie a tutti.